Grazie a tutti. La Bonino lo accusa di tenere troppa gente in galera e il centrodestra lo accusa di mettere fuori troppa gente dalla galera. I Reziani prima hanno detto che erano tentati di votare quella del centrodestra e adesso vogliono votare quella della Bonino. Io mi accontenterei che decidessero qual è il delitto commesso da Bonafede, se mette fuori troppa gente o se ne tiene dentro troppa, perché le due cose insieme non possono stare. Ho l'impressione che se votano una delle mozioni creeranno in Parlamento un effetto ancora più comico di quando prima la Camera e poi il Senato approvarono la mozione Paniz su Rubi, nipote di Mubarak. Cioè qui siamo veramente oltre i confini della realtà.